Posso chiedere gli artisti di alzarsi così che vediamo di salvare? Le persone con gli artisti hanno bisogno di stare al solito per conciutare ma nei lavoratori succede esattamente con un posto Grazie artisti dei laboratori d'arte della comunità di Sant'Empio. Nel laboratorio ho scoperto la passione per gli altri, però la cosa che amo di più è scrivere poesie. Il tema che mi ha colpito di più è il tema della pace, perché in questo momento il nostro lavoro ha bisogno di pace e credo anche che abbiamo bisogno di più poesie.